Zidane che indirizzano il K, nel K ed è gol! Sono un calciatore. Non ero lì per... per divertimento. E se veramente volete fare quello che ho fatto io... Sei squadra in otto anni. È il trasferimento più caro del Real Madrid. Non mi aspettavo così tante persone qui per me. Vi mettereste tutti contro. Senza volerlo, Anelka è al centro di una vera battaglia legale. I Bleu sono in Sudafrica. Nicolas Anelka è escluso dalla nazionale francese. Se gli eventi vengono confermati... Sono inaccettabili. Ne parlavano tutti. Era il bersaglio perfetto. Nicolas non è un angelo se non vuole essere un angelo. Ancora una volta mi hanno addossato la colpa. Nicolas non è una persona che scoppia alla minima provocazione. Nizna è il più grande fiasco dei media. Di queste condizioni mi dimetto. È stato un momento davvero commovente. Personalmente lo ammiro. Per la persona che è, prima che per lo sportivo. Per me c'è un mondo tra Nicolas e ciò che la gente pensa di lui. Per me c'è un mondo Okele. Per me c'è un mondo traburno O